Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Aria di baruffa, di tormenta, aria di bufera da questo punto di vista per quanto riguarda il nuovo ciclo della Juventus che comincerà ufficialmente a giugno. Certo, sicuramente questo finale di stagione sarà incredibile perché abbiamo la possibilità di fare delle grandi cose, però a giugno molto probabilmente ci saranno delle decisioni abbastanza chiare che verranno prese da John Elkan stesso. Quindi sarà Elkan che prenderà in mano la situazione e deciderà sotto tutti i punti di vista quali saranno i nuovi elementi del progetto della nostra squadra. Nel frattempo possiamo comunque cominciare a parlare un pochino di quello che negli ultimi giorni si è detto, ovvero di un ritorno clamoroso di Antonio Conte sulla panchina della nostra squadra. Un Conte che, dobbiamo dire la verità, al Tottenham un po' sta facendo bene, però non si sente propriamente a proprio agio. Nel senso che lui secondo me se potesse andrebbe via. Io ti dico la verità, ho questa sensazione che lui non è propriamente contento lì. Quindi, nonostante dal punto di vista dei giocatori li abbiano preso chiunque lui abbia chiesto, lui potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione. Però vi racconto un po' di cose. Prima ovviamente di iniziare, come al solito, iscrivetevi sempre a sto canale, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche. Non fate i tifosi dell'Inter che non l'attivate, quindi attivatela così rimanete sempre aggiornati. E in più trovate OneFootball che è l'app numero 1 di Ricadarcalcio ed è gratis, la migliore app che c'è attualmente con tutte le cose. E poi trovate pure i miei social, quindi se vi va seguitemi sui social. Allora, quanto di vero c'è per quanto riguarda il ritorno di Conte sulla panchina della Juve? Innanzitutto, per adesso non ci sono state proposte. Molta gente ha scritto che Conte è stato contattato, o che Conte è stato... No. Nel senso, Conte attualmente non è stato contattato perché semplicemente non ci sono problemi con Allegri. Nel senso, Elkan ha confermato l'allenatore e ha chiesto all'allenatore di restare. Quindi, lui non vuole che Allegri attualmente vada via. Cioè, Elkan attualmente ha nell'idea che ha di proseguire l'idea di Agnelli, cioè quello di continuare il ciclo con Allegri e di dare all'allenatore la squadra che lui appunto vorrebbe sempre, ovviamente non tutti i giocatori che vorrebbe, però comunque qualche giocatore che vorrebbe. Quindi l'idea di Elkan attualmente è quella di continuare con Allegri attualmente. Le cose però vanno ad essere diverse quando bisogna capire la volontà dell'allenatore. Perché dopo le dimissioni del CDA, Allegri è stato, diciamo, un po' particolare nell'approccio. Ha detto, adesso se ne va il CDA, probabilmente cambia il mercato, Cherubini se ne vuole andare. A questo punto, che ci sto a fare? Nel senso, a un certo punto potrei anche decidere di andare via. Poi Elkan stesso ha detto, tu resti, perché noi vogliamo continuare con te, vogliamo comunque continuare il tuo progetto, però bisognerà vedere se l'allenatore andrà via oppure no. Certo, dipende pure dai risultati. Se Allegri quest'anno, ma arriva sesto per dire, è Mesh all'Europa League, ormai a un certo punto dice, guarda, ci abbiamo riprovato, niente contro di lui. Perché la prima volta che sei stato qui sei stato uno degli allenatori più forti del mondo. Hai fatto molto per noi, però evidentemente questa seconda esperienza non è andata bene. Se Allegri però, ti vince lo Scudetto, o ti arriva vicino a vincere lo Scudetto con una squadra che non solo è danneggiata, ma che c'ha praticamente nessuno dietro, perché siamo senza nessuno. Nel senso che queste sono problematiche che vanno poi a condizionare il campo. Vanno anche ad avere un effetto sul campo, vanno anche se vogliamo a modificare, se vogliamo anche l'atteggiamento. E in tutto questo ti riesce a portare ad un certo livello l'Europa League, è normale che tu ti fai due conti e dici, vale la pena cambiare allenatore, prendendo un allenatore che vuole anche di più a livello di stipendio. Vediamo un pochino. Conte al Tottenham guadagna tantissimo. E non ha intenzione di guadagnare poco, nel senso che già lui in Serie A guadagnava tantissimi soldi. Molti di più di quelli che ne guadagna Allegri. Tanta gente dice che Allegri guadagna tanto. Certo, Conte guadagna il doppio. Quindi se vuoi, Conte devi sborsare almeno il doppio di quello che tu stai sborsando per Allegri. Quindi vuol dire dare a Conte uno stipendio altissimo, che la Juve non ha mai dato ad un allenatore. E quindi è uno stipendio che a un certo punto devi anche contare se ne vale la pena. In secondo luogo, devi anche considerare che Elkan non è in buoni rapporti con Conte. Molta gente mi ha detto Matt, ma adesso che non c'è Agnelli, Conte può ritornare. Può ritornare, ma poteva ritornare pure se c'era Agnelli, se c'è chi arriva con Agnelli. Il problema è che ha anche delle cose contro John Elkan. Perché all'epoca dei fatti, quando Conte lasciò la Juve, anche John Elkan non è che fu felice di vedere sta cosa. Quindi è normale che neanche John Elkan ha più quel rapporto che aveva una volta con Conte. Cioè se John Elkan richiama Conte è perché sa che Allegri va via e di conseguenza non ha un'altra idea per l'allenatore e c'è qualcun altro che dice chiama Conte. Perché se John Elkan di sua spontanea volontà deve andare a chiamare Conte e dirgli torna la Juve, non ci andrà mai. Quindi ci deve stare qualcuno da dietro che gli dice ma prendi Conte, perché se prendi Conte può aiutare. Ora, io so del parere che Conte dal punto di vista del carattere sicuramente è uno dei più grandi allenatori attualmente al mondo dal punto di vista dell'andare a costruire il carattere dei giocatori. Tatticamente no. Tatticamente è un buon allenatore ma non c'è niente in più di Allegri. Anzi, non c'è niente in più di niente. È un ottimo allenatore ma secondo me più volte ha dimostrato di essere un allenatore troppo, 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 troppo fisso sui soliti capisaldi. Ed è per questo che nonostante lui abbia vinto tanto a livello di campionati nazionali in Europa non è mai andato a giocarsi ad esempio una finale di Champions. Non è mai arrivato a quei livelli nonostante abbia allenato squadre che la finale di Champions avrebbero potuta farla tranquillamente. Perché comunque ha allenato la Juventus che l'anno dopo con Allegri ci ha andato. Ha allenato il Chelsea che poi con Sarri ha vinto l'Europa League. Quindi sta allenando una squadra come il Tottenham che non è uno squadrone assoluto però ha ottimi giocatori. Cioè il Tottenham è un'ottima squadra non è un top club però comunque un'ottima squadra. Bisognerà vedere un pochino quello che si vuole. Per quanto riguarda il discorso di Conte io credo che il discorso relativo al suo modo di fare sia chiaro. Io non rispetto molto quello che lui ha detto negli ultimi tempi. sicuramente è una figura legata alla Juve è una figura legata al contesto Juve onestamente parlando non credo di poter far finta di niente quando si parla di Conte. Cioè non ti posso dire che è un allenatore il cui ritorno mi farebbe piacere. Ecco te lo dico sinceramente senza che ti giro troppo intorno alle cose che tu sai a me non piace. Io non ti posso dire te lo dico proprio sinceramente non so contento se torna Conte se torna Conte è l'allenatore della Juve quindi è normale che io ti dico vabbè abbiamo Conte dobbiamo tifà per Conte però onestamente parlando e non solo per la situazione relativa al fatto di avermi lasciato a metà stagione a metà stagione all'inizio stagione con un ritiro in corso senza allenatore ma anche perché l'arrivo di Allegri dopo Conte ha dimostrato che Conte faceva poco rispetto a quello che avrebbe potuto fare molto poco rispetto a quello che avrebbe potuto fare e quindi di conseguenza per quanto mi riguarda un ritorno di Conte sarebbe sicuramente bello dal punto di vista emotivo cioè perché comunque torna un allenatore che lo conosciamo è stato tanti anni qua ma sarebbe comunque ridicolo dal punto di vista dell'approccio perché stiamo parlando di un allenatore che non è stato cacciato dalla Juve ma è stato e l'ha stato lui che a un certo punto ha lasciato tutti in una situazione particolare poi quando è voluto tornare in Serie A voleva tornare qui non l'abbiamo voluto semplicemente perché noi non siamo voglio dire patetici e da questo punto di vista è andato all'Inter dove ha speso delle parole non proprio normali quindi sicuramente anche le dichiarazioni che ha fatto Conte vanno ad incidere su quello che è comunque mi sto guardando un attimo le altre macchine e lì vanno ad incidere praticamente sulla situazione che si può creare fra i tifosi certo c'è sta chi va allo stadio dimentica tutto con tutto il rispetto ci sono dei soggetti ma non solo allo stadio in generale dei tifosi della Juventus che potresti avere un allenatore che ti calpesta che ti critica che ti chiama ladro il giorno dopo sei lì a farlo di nuovo io queste persone le giudico persone veramente veramente nel senso sono intelligenti perché riescono a passare sopra le cose ovvio più che intelligenti sono sono leggere di testa cioè riescono a passare sopra le cose io non riesco non riesco io non riusciamo in tanti a dimenticare un comportamento sbagliato un modo di fare sbagliato una parola sbagliata non ce la faccio io personalmente sono sempre stato abbastanza chiaro nei rapporti in tutti i tipi di rapporti se sbagli me lo ricordo cioè ti perdono vado avanti ma me lo ricordo e quindi di conseguenza se tu fai un torto alla mia squadra me lo ricordo anche se torni e se lui dovesse tornare io spero che lui vinca tutto con la nostra maglia perché è la mia squadra però io non posso avere più l'affetto per Conte che avevo prima perché io so che Conte tutto l'affetto che i tifosi gli hanno dato l'ha preso e l'ha gettato nel cestino che gli immondizia con tutto il rispetto possibile e immaginabile perché lui avrebbe ma non è solo il fatto di essere andato all'Inter perché il fatto di essere andato all'Inter chi se ne frega a un certo punto lui è un professionista quindi ha scelto quella che era la sua diciamo scelta ha fatto una scelta è come vai capito è il modo in cui ci è andato è il modo in cui ha ragionato è il modo in cui ha parlato non mi piace capito ragazzi non mi è piaciuto questo ragionamento però ognuno ha le proprie idee ognuno ha i propri modi di fare ognuno ha le proprie situazioni ognuno ha un modo di fare differente io personalmente con una persona come Conte dopo tutto quello che ha detto su Aiuve tante cose non le farei passare cioè probabilmente ce le divierai ogni due minuti poi io ho pure un carattere insomma non sono un carattere particolarmente facile da gestire quindi immagino che pure lui è bello fumantino quindi immagino i litigi voglio dire quindi non sarebbe semplice però se c'è chi ce la fa ed è pronto a dimenticare tanto te capisci nel senso che se ce la fai e dimentichi è un altro discorso però ripeto e ribadisco non dobbiamo essere comunque così così non possiamo dimenticare tutto quello tutto quello che comunque c'è stato né né di vittorie né di sconfitte né di cose che diciamo sulla verità aveva fatto delle relazioni che non servivano essenzialmente al rapporto quindi Conte torna la Juve o no se fosse per i dirigenti no perché attualmente Elkan tutto vuole tranne che Conte però potrebbero esserci delle situazioni che potrebbero portare ad esempio questo questo ritorno potrebbero portare Conte in bianco nero e forse chissà potremmo assistere ad un nuovo ritorno insomma fatemi sapere un po' datemi un po' un parere datemi un parere raga datemi un vostro un vostro parere personale su questa cosa insomma io voglio sapere i vostri commenti perché tanta gente mi ha scritto tante volte abbiamo parlato anche tante volte mi ha detto però tu non puoi far così insomma te la leghi un po' al dito che sei così permaloso che Conte d'affatto non è una cosa sola capite qual è il discorso non è una cosa sola vabbè ti ha lasciato nel 2014 nella voglio dire nel mare voglio dire nel fango e nel catrame è solo quello non è solo quello capite qual è il discorso non è solo quello quindi fatemi sapere un pochino nei commenti no allora fatemi datemi un parere raga datemi un parere grazie a tutti Grazie.